Dal primo di aprile le linee esterne al canale grande cambiano volto. Nuovi orari dunque, una rimodulazione delle linee per migliorare e rendere più efficienti i servizi per l'utente. In poche parole, più corse nelle fasce di punta e meno in quelle poco utilizzate. L'assessore alla mobilità, Ugo Bergamo, dunque dà il via alla sperimentazione che durerà 4 mesi, rassicurando che comunque mezzi di supporto in caso di emergenza ci sono, ma che non dovrebbero essere necessari. È innegabile, ha detto, il vantaggio che la rimodulazione porterà. La linea 6 dunque arriverà direttamente dal Lido alla ferrovia, cambiando a Piazzale Roma in linea 3. Nei giorni festivi poi l'orario base vedrà intensificarsi le corse, i tempi di trasferimento ridursi e i collegamenti con l'ospedale, le fondamente nuove prolungate fino a mezzanotte e mezza. Insomma, le linee esterne a Venezia si intensificheranno negli orari più affollati, garantendo un migliore utilizzo dei mezzi, almeno secondo ACTV. Tra 4 mesi, dopo un attento monitoraggio, spiega l'assessore Ugo Bergamo, decideremo se far diventare questa rimodulazione definitiva o apportare delle modifiche.